Benvenuti nel mondo degli orologi Mondain. Mondain è un marchio svizzero di orologi con sede a Biberest, nel canton Soletta. Il marchio è noto per la produzione di orologi dal design minimalista e iconico, ispirati alle stazioni ferroviarie svizzere. Il design degli orologi Mondain è caratterizzato da un quadrante bianco con numeri neri e la lancetta dei secondi rossa ispirata alla paletta dei capi stazione. Questo design minimalista e funzionale è stato ispirato dai famosi orologi delle stazioni ferroviarie svizzere, noti per la loro precisione e affidabilità. Tutti i modelli del marchio sono ispirati all'orologio delle ferrovie F, F, S svizzere progettato dall'ingegnere e designer Hans Ilfica nel 1944. L'orologio ferroviario svizzero originale è stato creato per garantire una sincronizzazione precisa tra tutti i treni nel paese, in modo da evitare ritardi. Il design dell'orologio era essenziale per la sua funzionalità e doveva essere facilmente leggibile anche da lontano. Il design degli orologi Mondain è stato ispirato dal famoso orologio delle stazioni ferroviarie svizzere, ma è stato adattato per l'uso quotidiano. Il quadrante bianco con numeri neri è facilmente leggibile sia di giorno che di notte, mentre la lancetta dei secondi rossa, ispirata alla paletta dei capistazione, conferisce all'orologio un tocco di colore e rende facile seguire il passare dei secondi. L'uso di materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile e il vetro zaffiro, garantisce che gli orologi Mondain siano resistenti e duraturi. Inoltre, la linea di orologi è disponibile in diverse dimensioni e stili, tra cui orologi da uomo e da donna, orologi da polso e da tasca, con funzionalità come cronografi e calendari. La collaborazione con il Museo del Design di Zurigo ha portato alla creazione della linea di orologi elvetica by Mondain, ispirata al celebre carattere tipografico svizzero.